La scrittura come arte. La lingua giapponese appartiene al gruppo uralo-altaico, che comprende il coreano, il mongolo, il findigo, il turco, eccetera. Ma non si può negare che essa sovrabbonda anche di vocabili d'origine polinesiaca. Come la razza, così anche la lingua lipponica esulta di molteplici elementi asiatici. È polisillabica, è agglutinante, e prima di venire a contatto con l'idioma cinese, che è monosillabico e consegnato a una scrittura ideografica 2000 anni prima dell'era volgare, era soltanto parlata ma non scritta. Divenute frequenti le relazioni del Giappone con la Cina, i nipponici si valsero dei segni ideografici cinesi per scrivere la loro lingua parlata, sicché i cinesi e i giapponesi possono intendersi da lontano inviando messaggi scritti, da vicino tracciando gli ideogrammi cinesi sulla carta o sulla mano e stando completamente zitti. Il segno scritto li unisce, la parola li separa. Poiché le idee e le cose che importava la Cina non avevano vocaboli giapponesi, atti ad esprimerle, si designavano con termini cinesi, tal che la lingua giapponese si saturò di questi ultimi, e mostrava una forza mirabile di resistenza nel non cedere il posto all'idioma cinese e sparire addirittura. Chi impara a leggere il giapponese nei segni cinesi impara contemporaneamente a leggere il cinese, ma impadronirsi di segni cinesi è impresa difficile e lunga, perciò i segni cinesi sono stati abbreviati e si può leggere e scrivere il giapponese col sistema irakana e katakana. Una specie di stenografia è una scrittura sillabica. Una gran parte dei giornali nipponici è stampata in katakana. L'uso della scrittura fu d'impulso ai giapponesi a un grande rapido progresso, dalla scrittura derivò l'arte della calligrafia, che assunse quasi la stessa importanza della pittura. Shotoku Taishi Sotto l'imperatore Keitai, 507-542, un dotto cinese, Shibatato, portò un'immagine del Buddha nel regno di Yamato e cercò, ma in vano, di propagarne la dottrina. Nel 552 l'imperatore Kimmei riceve intorno parecchi testi buddistici e l'immagine del maestro e invita Iname, capo del nobile parentato di Soga, Eokoshi, rappresentante dei mononobe, a suggerirli quel che dovesse fare di quel dono. Iname consiglia di seguire l'esempio dei coreani e dei cinesi e di diffondere la dottrina dell'illuminato, ma non è dello stesso parere Eokoshi, il quale teme che gli dèi indigeni considerano come offese il nuovo culto. Scoppia la peste e si crede che tale calamità sia effetto dell'ira degli dèi shintoisti. L'immagine del Buddha viene rimossa e Iname e i Soga sui parenti sono privati del loro ufficio a corte. Tra i Soga e i mononobe si accende un odio inestinguibile. Umako, capo dei Soga, riacquista per sé i suoi ed il buddismo, prestigio alla corte dell'imperatore Bitatsu, 572-586, e riesce alla morte di quest'ultimo a far salire sul trono Yomei, nipote di Bitatsu, il quale regna soltanto un anno. Moriya, capo dei mononobe, fa ogni sforzo affinché a Yomei succede il fratello minore di Bitatsu, ma Umako ammazza Moriya e insedia sul trono il fratello di Yomei, l'imperatore Sushun, che egli poi fa assassinare nel 592 perché è propenso a scuotere il gioco di Soga. Suiko, vedova di Bitatsu, diventa così imperatrice e affide la reggenza a Umayado, secondo genito di Yomei, una delle più grandi e amabili figure della storia nipponica, celebrato sotto il nome di Shotoku Taishi. Fervente buddista, Shotoku Taishi studiò e commentò egli stesso da maestro i Sacri Testi, fondò 46 monasteri, mandò in Cina studenti giapponesi e invitò gran numero di doti cinesi e coreani in Giappone. Molti templi furono da lui fondati, tra i quali Horyuji, che è la più antica costruzione in legno che esista al mondo, e Shitennoji, un tempio di stile indiano. Incoraggiò le arti come la pittura e la calligrafia e favorì la costruzione di ponti e di strade. La cultura giapponesa si propagò largamente e profondamente nel Giappone e non di meno Shotoku regolò le relazioni diplomatiche con la Cina in modo da assicurare a se stesso una parità con l'imperatore cinese e piena indipendenza. La riforma dello Stato venne da lui praticata poco a poco, poiché, secondo Confucio, due estri solari non esistono nel cielo. Così pur in terra l'imperatore assomma in sé tutto il potere ed è solo a comandare. Da questo principio del potere unico assoluto deriva la costituzione dello Stato in varie gerarchie ed impiegati e il sistema statale cinese che fu introdotto in Giappone. Animato dal più sincero e puro spirito buddhistico, formulò 17 articoli di legge che formano una specie di codice di altissima morale. Esorta il popolo a venerare il Buddha, la sua dottrina, i suoi monaci, ad amare il prossimo e ad andare d'accordo con lui. Esorta gli impiegati al disinteresse e allo zero nel compiere il proprio ufficio. Shotoku Taishi è giustamente chiamato il costantino del buddismo in Giappone. Isoga naturalmente trovare in lui un amico e un protettore. Morì nel 621, otto anni prima della imperatrice Suiko. Sterminio della famiglia Soga e riforma dell'era Taikao. Jomei succede alla nonna Suiko nel 629 e durante il suo regno la famiglia Soga, rappresentata dai Mishi figlio e dei Luca nipotino di Umako, spadroneggia e rivaleggia con la corte imperiale, in modo tale che il principe Naga Nohoe concepisce un fiero implacabile odio contro i Soga e il sistema dei grandi parentali. Nel 642 muore Jomei e sale al trono la vedova di lui, Koji Uko. Il giovane figlio, il principe Naga Nohoe e Nakatomi Kamatari, al quale sarà poi dato il nome di famiglia Fujinawara, ammazzano Iruka ad un banchetto e mandano sicari in casa di Emishi perché lo uccidano. Emishi, sorpreso, ha appena tempo di distruggere i documenti importanti di stato e perisce nelle fiamme con la famiglia. Così furono sterminati Soga, così incominciò a sostituirsi il sistema statale cinese a quello nipponico dei parentali. L'imperatrice Koji Yoku Abdika e le succede il fratello Kotoku, sotto l'impero del quale avviene la grande rivoluzione, Taikawa, e l'ordinamento dello stato nipponico. Nakanoe e Nakatomi Kamatari sono gli ispiratori di questo movimento di riforma. Unico proprietario delle terre è l'imperatore, il quale le distribuisce ai contadini e a chi gli presta servizio. In luogo delle corporazioni ereditarie si nominano per i vari uffici i necessari impiegati e gli impieghi non sono più trasmissibili di padre in figlio. Si aboliscono i collettori delle imposte e questi si pagano direttamente alla corte. Così viene evitato che crescano già troppo vastriati fondi e se ne formino dei nuovi e che il denaro delle imposte va in gran parte nei taschi di collettori disonesti. Il potere di imporre il lavoro alla gente per conto dello stato viene anche limitato mediante una legge in base alla quale ciascun uomo, dei 20 ai 50, è tenuta a prestare lavoro allo stato soltanto 10 giorni all'anno. Alla morte dei grandi signori un numero ingente di operai era chiamato a costruire i monumenti sepolcrari e immense erano le spese che questi costavano. Ad evitare tanta fatica imposta e tante spese un'opportuna legge stabilì la misura dei sepolcri secondo gli uffici e la dignità. In una stanza terrena della corte imperiale fu messa una cassetta per accogliere le domande e i reclami del popolo e una campana che postulanti e reclamanti suonavano per ricordare alla corte che la risposta tardava ed essi la sollecitavano. Kotoku favorì e protesse il buddismo ed ebbe fama ad essere d'animo mite e benigno. Morì nel 654 lasciando il trono alla sorella che aveva abdicato e che ora diventa l'imperatrice Saimei. La Cina intanto invade la Corea. L'imperatrice Saimei per sua una parte per soccorrere i coreani ma giunta Kyushu si ammala e muore lasciando l'impero al figlio Naka Nohoi, disegnato col nome di Teki 662-672. Egli prosegue la spedizione a favore dei coreani ma l'esercito nipponico è battuto e il Giappone perde la Corea nel 662. Teki che con l'aiuto di Naka Tomika Matari era riuscito a estirpare la famiglia dei Soga e a togliere il potere dei grandi parentadi mediante la riforma dello Stato, riconoscente per i grandi servigi dal fedele abile amico, gli dispensa i più alti uffici e onori e infine il nome di famiglia Fujiwara, contribuendo così a ricostruire la forza e il prestigio di un parentado. I quattro secoli seguenti formano l'era Fujiwara per l'ascendente preso da questa famiglia nel governo della cosa pubblica e perché gli imperatori sollevano a scegliere da essere le loro mogli. La cultura cinese, quella della dinastia Tang, penetra sempre più in Giappone anche perché molti coreani, in seguito alla disfatta inflitta dei cinesi, passano il mare e sbarcano sui nidi nipponici. Tenki, infermo, sentendo la morte vicina, mandò a chiamare l'erede al trono, Amano Oji, terzo genito di Jomei, per indurlo a rinunziare alla successione. Il principe non ha la forza di opporsi al desiderio del malato, rinunzia e va a chiudersi in un convento. Tenki, felice di poter lasciare l'impero al figlio prediletto, Otomo, muore nel 972, ma morto lui, Amano Oji rivendica i suoi diritti con la massima energia. Sconfiggio Otomo, chiamato l'imperatore Kobun, e sale al trono con nome di Temmu, 673-687. A Temmu succede l'imperatore Gido e a questa l'imperatore Momu, che regna dal 697 al 707, e sotto il quale si compie la riforma dell'erata icqua. Si istituisce un ufficio per la direzione e la cura dello cintoismo, un supremo consiglio di stato, un ministro che siede alla destra, un ministro che siede alla sinistra. Sono inoltre costituiti i seguenti otto uffici per i decreti dell'imperatore, per il culto, per l'amministrazione delle province, per l'economia e il commercio, per la milizia, per la giustizia, per le finanze, per i lavori e le costruzioni della corte imperiale. Tre consigli, infine, completano l'ordinamento dello Stato, il grande, il piccolo e il mediano. Questa nuova costruzione dello Stato esigeva una capitale fissa e che si rinunziasse all'uso di cercarne sempre una nuova alla morte di ogni imperatore. A ciò appunto provvide l'imperatore Gemmei, succeduta a Momu. Essa si trasferisce a Nara nel 710 e la sede dell'impero e del governo fino al 782 resta stabilmente a Nara. Il periodo aureo della cultura. Abbattuti troppo possenti parentati e costituitosi lo Stato sul modello cinese, il Giappone elabora e trasforma i molteplici elementi di cultura ricevuti dalla Cina, in modo da dare a se stesso una civiltà originale prettamente nipponica. Originalissimo è il valersi della scrittura ideografica cinese come strumento per dare segni grafici ai suoni del linguaggio giapponese. Mirabile è il modo di adoperare la evoluta tecnica cinese per esprimere sentimenti nettamente giapponesi nelle varie arti. Architettura, pittura, plastica, calligrafia sono confondibilmente giapponesi. Templi, come lo Horyuji, la più antica costruzione di legno è rimasta al mondo, e il Todaiji, capace di contenere 5.000 monaci, pagode e conventi sorgono a Nara. Lavori in oro, argento, lacca, argilla, legno si esauriscono su vasta scala e si conservano oggi nello Shuzoin, tesoro vero e proprio dell'arte giapponesa Nara, che fu chiamata Heijo, cioè la Rocca della Pace. Si scopre una miniera d'oro nella provincia Mutsu e Shomu. L'imperatore ordina che si modelli una colossale statua del Buddha, il Daibutsu, a formare la quale si fece uso, tra l'altro, di oro, mercurio e rame. Si affrescano le pareti dei templi e le raffigurazioni di Buddha e di Bodhisattva ricordano lo stile dei dipinti delle cave di Hayata. Poi comincia la pittura profana sotto l'influsso cinese. Vedono la luce del Kaijiki, in lingua giapponese scritta con ideogrammi cinesi, il Nihon Shoki, in puro cinese, il Fudoki, o descrizione di paesi e genti, il Maniyoshu, o raccolta di canti di poeti di corte e di anonimi che certo rappresentano sentimenti popolari. La musica cinese, quella del periodo Tang, viene coltivata e seguita con grande impegno, sotto il nome di Kagaku, e chi voglia ricostruire la genuina musica Tang trova non più in Cina e in Corea, ma nel Giappone tutti gli elementi indispensabili alla sua impresa. Ancora oggi alla corte imperiale nipponica, nei tempi cintoisti e buddhisti, si esegue dalle musica come nell'VIII secolo Nara. L'imperatore, la corte, i magnati parlano e scrivono in cinese, ma il popolo conserva gelosamente la propria lingua, le proprie tradizioni e, come si è già detto, adatta agli elementi della civiltà cinese al genio nipponico nelle scienze, nelle arti e nei mestieri. Tanto rigoglio di cultura e d'arte si manifesta nel periodo che prende il nome della città di Nara, e che dal 710 va al 782. Tempio, ossia pace celeste, sono chiamati i 27 anni che corrono tra il 729 e il 756, e rappresentano quel che di meglio produsse questa fioritura letteraria, artistica e religiosa Nara. Sette, fra imperatori e imperatrici, si susseguono in questo periodo a Nara. Genmei, Gensho, Shomu, Koken, Junnin, Shotoku, Konnin. Genmei, Gensho, Koken, che dopo aver abbedicato ritorna sul trono col nome di Shotoku, sono donne. Sotto Shomu, 724-749, il buddismo non soltanto ebbe una larga diffusione, ma cominciò ad acquistare il potere politico. Fujiwara Hirotsugu presenta una corta un'istanza, perché si è lontani dal fianco dell'imperatore, il monaco Gembo, consigliere non dito ma obbedito. Non si tiene conto della istanza, e allora Hirotsugu tenta di ottenere con le armi ciò che aveva chiesto in darno con la preghiera, ma è sconfitto e decapitato. Shomu, ferventissimo buddista, abdica, si fa monaco e affida l'eredine dell'impero alla figlia Koken. Sotto l'impero di lei, More Giochi, riformatore della disciplina dei monaci buddhisti, il quale promosse la costruzione di strade e di ponti. E, sostenendo che la divinità shintoista e buddista si identificavano, aprì la via alla fusione delle due regioni. Koken, sotto la pressione del fratello Fujiwara Nakamaru, si fa monaca e cede l'impero a Junin, che resta sul trono sei anni, dal 659 al 765. Dokyo, monaco buddista, si conquista la fiducia della ex imperatrice, e il suo potere a corte è tale che Nakamaru tenta di ucciderlo, ma è battuto e decapitato, e Junin viene esiliato e costretto a restituire l'impero a Conan, la quale risale il trono col nome di Shotoku. Dokyo, ambiziosissimo, cerca di indurla a cedere l'impero, e Shotoku invia il ministro al Kiyomaru, a Kyushu, per interrogare gli avi e aver consiglio sul da farsi. Kiyomaru, tornato, riferisce che gli avi sono decisamente contrari a interrompere la successione veneranda, che dura fin dal principio del mondo sempre nella stessa famiglia imperiale, e che occorre allontanare dal più presto l'empio che ha concepito la sacrilega idea di occupare il trono. Dokyo, deluso e sdegnato, fatta di eri garetti a Kyomaru e lo esidia. Con la morte di Shotoku termina l'odiosa genomonia di Dokyo, perché occupa il trono Konin, 770-781, il quale ordina subito il richiamo di Kyomaru e l'esilio di Dokyo. In tal modo si conclude il luminoso periodo di Nara, il quale lascia due gravi problemi da risolvere, contenere l'arbitroio dei nobili e degli impiegati nei rapporti col popolo, e impedire ai monaci d'occuparsi di politica. Il periodo Heian. E' questo il compito che si assume l'imperatore Kuamu, 782-804, il quale trasporta il governo alla residenza imperiale nel 785 a Nagaoka, e infine nel 794 a Kyoto, per rimanere in questa ultima città il primo fino al 1192, cioè l'inizio del periodo Kamakura. La seconda, fino al 1869, cioè alla restaurazione di Kyoto, fu chiamata Heian, cioè la pace. Kuamu, con tale cambiamento di residenza, rese a se stesso possibile di migliorare le relazioni fra i magnati e il popolo, e di sottrarre la corte agli immediati influssi dei monaci buddhisti, numerosi e potentissimi a Nara. Disgraziata fu la prima spedizione ordinata da Kuamu contro gli Ainu, che, si dice, si adunavano come le formiche e si sbandavano come gli uccelli. Fu solo l'eroico valore di Maro, che riuscì a soggiogarli completamente. Le incursioni degli Ainu partivano soprattutto dalle due province del nord, Dewa e Mutsu, e il governo pensò di creare un esercito composto di soldati veramente interessati a difendere le proprietà infestate da questi barbari ribelli. Dispose quindi che i figli dei proprietari molestati e assaliti formassero un piccolo esercito di difesa. Ecco l'origine della cassa privilegiata di guerrieri che nel periodo feudale diventerà tanto cospicua. La caratteristica del periodo Ainu è il moltiplicarsi dei fondi sottratte alle imposte. Le grandi famiglie, i favoriti dell'imperatore, i templi, i conventi, possedevano ampie proprietà completamente immuni da imposta fondiaria. I piccoli proprietari, per godere anche loro dello stesso privilegio, cedevano il loro fondo a una famiglia magnetizia o a un convento. La concessione però era soltanto nominale perché continuavano a godere dei frutti della terra e si limitavano a pagare alla famiglia nobile o al convento una somma proporzionale alla rendita percepita. Nonostante il divieto del governo di concedere in dono a terra istituzioni religiose, ovunque a Kyoto sorgevano nuovi templi e monasteri riccamente dotati e il numero dei monaci buddhisti cresceva di continuo. A evitare che tutte le terre si sottoressero all'imposta fu necessario modificare la costruzione dello stato a base burocratica. In Cina, grande paese, essa dava buoni frutti, ma nel Giappone, poco popolato, era a causa di gravi danni. Governare un piccolo paese come il Giappone, una serie complicate di consigli e di impiegati, equivaleva a smembrare un pollo col coltellaccio da mocellaio. In segno emerite di Kuan Mu fu di inviare nella Cina il monaco Saicho per studiare le dottrine della scuola buddista istituita da Chinkai in un monastero sul monte Tientai. Tornato, Saicho chiese alla corte l'autorizzazione di fondo alla nuova setta, oltre a essere ufficialmente riconosciute a Nara. Ottenuto il permesso, Saicho costruì sul monte Hei, al nord-ovest, punto cardeale in Fausto di Chioto, un convento, per proteggere la casa imperiale da ogni influsso malefico che da quel punto potesse provenire. Sorse così la setta Tendai, nel quale nome si riconosce quello cinese Tientai. Ebbe tra le sette un grande sviluppo. Nel suo massimo fiore poté contare 3.000 templi e 40.000 monaci, ed esse derivano moltissime forme del buddismo giapponese moderno. A Nara le vecchie sette contestavano a Saicho il diritto di ordinare nuovi monaci, ma Saicho prevalse e fu il primo a ricevere il titolo di Daishi, cioè Gran Maestro. Egli è conosciuto sotto il nome di Denjo Daishi. Le dottrine fondamentali della setta Tendai ammettono che ogni fenomeno dipende da un'unica realtà assoluta, a conoscere la quale sono necessari studio, pratiche religiose e contemplazione, e che la morale consiste nell'evitare il male, cercare il bene, amare il prossimo e le bestie. Kuammo inviò in Cina non soltanto Saicho, ma anche Kukai, uno dei più grandi spiriti del Giappone, che suole essere denominato Kobo Daishi. Dimorò tre anni in Cina e divenne discepolo di maestri buddhisti dell'India meridionale, propagatori del culto di Mahavairokana, detto in giapponese da Inichi Nyorai, rappresentato come il Buddha primordiale eterno, da cui emanano tutti gli altri Buddha. Kukai intitolò la dottrina attivante a tale culto la parola di verità, ossia Shingon, e la setta che egli quindi fondò, preso appunto il nome di Shingon. Abbondano il simbolismo e la magia. Importante è anche la recitazione di formule, mantra. Il battesimo è un rito mistico, i dei dello Shinto sono assimilati con il Buddha e il Bodhisattva, tanto che Amaterasu viene considerata come suprema incarnazione del Buddha. Kobo Daishi può chiamarsi il fondatore di Ryobu Shinto o Kongo Shinto, ossia della pretesa fusione di Shintoismo e di Buddismo. Le due religioni in realtà non riuscirono mai a fondersi completamente e anche oggi vediamo che esiste uno Shintoismo accanto a un Buddismo. Famosa fu la versatilità di Kobo Daishi, oltre ad essere il fondatore della nuova setta buddhistica Shingon, egli fu un signo e scrittore, un abile pittore e scultore, l'inventore delle 47 lettere dell'alfabeto giapponese, un rinomato calligrafo. Insegnò il buddismo alla corte e alle classi elevate, ma fu anche il primo a fondare una scuola per i figli del popolo. L'imperatore gli regolò il Monte Koya, sul quale il maestro fondò un tempio che fu aperto nell'anno 816. Alto 850 metri sul livello del mare, il Monte Koya, al sud del fiume Kino Kava, diventò la meta di prelegriaggi. Principi, guerrieri, nobili, vi trovavano un rifugio negli ultimi anni della vita. E oggi si calcola che un milione di persone visitano normalmente le torri, i templi, i monasteri, l'università, la scuola media, che sono sorti sul suo vertice. Chi parte da Osaka raggiunge con una ferrovia elettrica e una funicolare in Monte Koya in poco più di due ore. Kobo Daishi nacque nel 774 e morì nell'835. I suoi adoratori sostengono che non sia mai morto, perché il suo corpo non si è decomposto. Egli aspetta la venuta del messia buddista Maitreya. La famiglia Fujiwara. Kwamu fu l'ultimo imperatore veramente energico che imposa la propria volontà al paese. Dopo di lui gli imperatori regnano ma non governano e quasi tutti abdicano e vanno a finire la vita nella quinta di un convento. A Kwamu succede il figlio Heizei. Questi abdica nell'809 a favore del fratello Saiga, il quale alla sua volta abdica e lascia il trono a Yuna nell'823. Yuna abdica anche lui nell'833 ed è seguito da Nimmyo, Montoku, Saiwa. Nell'877 Saiwa abdica e sarà il trono Yozei sotto la regenza di Fujiwara Mototsune che più tardi diventa Kwanpaku. Fujiwara Mototsune depone Yozei in sede sul trono Koko e alla morte di quest'ultimo continua a governare Giappone e essere Kwanpaku dell'imperatore Uda sebbene maggiorenne. Morto a Mototsune nell'891 Uda si rifiuta di nominare un altro Kwanpaku e cerca di sostituire ai Fujiwara lo statista Sugawara Michizane ma fallisce nell'intento abdica e si fa monaco nell'897. Due anni prima le relazioni diplomatiche con la Cina erano state interrotte. La famiglia Fujiwara così ricompare sulla scena. La sua dominazione era cominciata con Kamatari all'attempo della riforma Taikwa, si interruppe nell'ottavo secolo e si ravviva nel nono per continuare fino al dodicesimo, sempre più sicura e intransigente. Divenuti primi ministri o Kwanpaku, vale a dire tutori o rappresentanti di imperatori minorenni, i Fujiwara presero in mano le redini del governo e vigilando a che il prestigio degli imperatori si conservasse integro, tolselo loro ogni potere pratico e effettivo. Divennero veri e propri dittatori. Tutti gli onori, addirittura un culto, era riservato agli imperatori, ma il comando era interamente nelle mani dei Fujiwara. Imperatori principi ereditari sposavano donne della famiglia Fujiwara, gli uffici più importanti erano occupati dei Fujiwara, di terre esenti da imposte diventavano proprietari Fujiwara, politici di primo ordine e si sapevano togliere di mezzo, senza versare sangue, colui o coloro che li osteggiavano. Michizane resta sconfitto nella lotta contro il Fujiwara e parimenti altre famiglie magnetizie trovarono arduo il gioco di tentare di togliere il potere ai Fujiwara. All'inizio del periodo Heian, l'imperatore Kwamu nominò uno dei suoi figli governatori della provincia del Giappone orientale. I discendenti che non trovarono posto alla corte di Kyoto restarono in provincia per coltivare le loro terre e difenderle militarmente. Furono essi i fondatori della famiglia Taira. Altri imperatori regalorano terre esenti da imposte ai loro figli e questi di loro origine alla famiglia Minamoto. È in gran parte formata dalle vicende delle famiglie Fujiwara, Taira e Minamoto. Da questi tre grandi parentadi molti altri derivarono i Kikuchi, i Miura e gli Hoyo, i Nitta e i Tokugawa. Tutti possedevano terre esenti da imposte e un più o meno grande esercito per difendere i loro beni. Il cammino è verso la feudalità. Un imperatore e grandi signori padroni dei soldati propri. Diamo successivamente fino al 1068 i nomi degli imperatori succeduti a Uda, che abbedicò nell'891, e gli anni nell'ora sceso il trono. Daigo, 891, Sujaku, 930, Murakami, 946, Reizei, 967, Enyu, 968, Quazan, 984, Ichiyo, 896, Sanjo, 1011, Ichiyo, 1016, Sujaku, 1036, Reizei, 1045, Sanjo, 1068. Sotto Sujaku, il potente Masakado della famiglia Taira chiese al governo di essere nominato capo della polizia a Kyoto, che gli affidassero cioè l'ufficio di Kei Bishi. Il governo, che era costituito dai Fujiwara, rifiutò la richiesta. Masakado, offeso, dichiara guerra ai Fujiwara e marcia con l'esercito contro Kyoto, ma muore prima di scontrarsi con Tadabumi, un Fujiwara a cui era stato affidato il comando dell'esercito imperiale. Dopo un vano tentativo dell'imperatore Murakami di disfarsi dei Fujiwara, questi sempre più concentrarono nelle loro umane il potere. Uno di loro, Michinaga, fa da tuttora tre regnanti, dà tre figlie come sposa a tre principi imperiali, diventa nonno di tre imperatori ed è tale il lusso e lo splendore di cui si circonda da poter dire la luna cambia ogni mese, ma io sono sempre lo stesso, sempre luna piena. Morto Michinaga nel 1027, il figlio Yorimichi diventa Kwanpaku. Le sue elevazioni in provincia aumentano e per domare quella capitanata da Yoritoki, il Kwanpaku Yorimichi è costretto a chiedere aiuto ai Minamoto. La lotta dura nove anni e si conclude con la vittoria di Yorimichi nel 1065. Nel 1068, Ganju II, sale al trono per sottrarre la corona alla tutela dei Fujiwara, abdica e diventa gli stesso attutore del figlio Shirakawa. Fonda così il sistema di governo chiamato Insei, un governo cioè dell'ex imperatore Fatto Simonaco. La famiglia Tahira dal 1068 al 1192. San Gio II si era eluso di riprendere il potere, i suoi ordini non venivano eseguiti. Il decreto col quale dispose la confisca di tutte le terre esenti e le imposte, restò a lettera morta perché la gran parte di queste terre apparteneva ai Fujiwara e i Fujiwara non si lasciavano portare via nemmeno un ettaro di terreno. Il nuovo sistema degli Insei contribuì a indebolire il potere dell'imperatore. C'erano due corti, quella del regnante titolare e quella dell'ex imperatore divenuto monaco. Molte volte gli ordini dati dall'una contraddicevano quelli dati dall'altra. In generale si dava più retta al volere dell'ex imperatore, ma l'assurdità della coesistenza dei due governi doveva necessariamente portare funeste conseguenze. Il potere era nelle mani delle famiglie militari e queste fra di loro aspramente contendevano per il primato. Feroce addirittura fu il duello fra i Tahira e i Minamoto. A San Gio II successero gli imperatori Shirakawa 1072, Horikawa 1087, Toba 1107, il quale abdica in favore del figlio Sutoku nel 1123. Otto anni dopo è concesso l'adito alla corte a un guerriero Tahira, a Tadamori, padre di Kiyomori. L'ex imperatore Toba, che esercitava la tutela sul figlio Sutoku, venuto a contrasto con lui, lo depone e insiede sul trono il figlio Konoe e, alla morte di quest'ultimo, un altro suo figlio, Shirakawa. Sutoku, primo genito, non può più frenarsi e corre ad assediare il castello in cui dimorava il padre. I Minamoto prendono parte per lui, i Tahira per Shirakawa II, guidati da Kiyomori e dall'eroico suo figlio Shige Mori. Sutoku viene sconfitto ed esiliato. L'odio fra i Tahira e i Minamoto arde implacabile e quando Shirakawa II, abdica in favore del figlio Nijo nel 1158, i Minamoto irrompono la reggia, mettono sotto custodia l'ex imperatore e col fuoco e col ferro fanno la strage completa di quanti trovano a corte. Kiyomori e il figlio Shige Mori corrono alla vendetta e dopo aspra battaglia mettono in fuga i Minamoto, guidati da Yoshimoto, il quale fuggendo è ammazzato da uno dei suoi. La sua testa fu mandata ed esposta a Kyoto. I Tahira e vincitori si impossessano del governo. Kiyomori diventa primo ministro, dalla propria figlia in sposa all'imperatore Takakura, seguito a Nijo e a Rokujo e distribuisce ai propri parenti i più alti infici dello stato. Si vuole che appunto in questi tempi, 1169, sia stato consumato il primo seppuku o suicidio per mezzo del taglio del ventre. Si suole disegnare col nome di Harakiri e tutti loro lo citano come prova del coraggio e dello stoicismo dei giapponesi. Tamitomo, fratello di Yoshimoto o Minamoto sconfitto in battaglia, corse in casa e si apre il ventre con la spada. La gloria di aver inaugurato questa rigida forma di suicidio spetterebbe quindi Minamoto. Una congiura contro di Kiyomori viene scoperta e di esso fu parte dell'ex imperatore Shirakawa, Shirakawa II. Kiyomori vuole punirlo, ma il figlio Shigemori intercede per lui con parole divenute famose. Santo è l'amore filiale, più santa è la fedeltà all'imperatore. Se ti sollevi contro di lui, faccio causa con lui. Kiyomori depone il Takakura e fa salire al trono il nipotino Antoku, del quale assume la tutela. La potenza di Taira è al suo punto culminante, ma i Minamoto ne preparano la rovina. Kiyomori aveva lasciato in vita due figli di Yoshimoto, provvedendo a che il primo, Yoritomo, fosse esiliato e il secondo, Yoshitsune, entrasse in convento. Ma nel 1180, l'anno stesso dell'avvento dal trono del fanciullo Antoku, Yoshitsune lascia il convento per accogliere truppe e Yoritomo si rega a Kakamura per un consimile intento. I due fratelli hanno giurato di vendicare il padre. L'esercito che il Taira di Okimori invia contro gli ribelli è sconfitto e i Minamoto cominciano ad affermare la loro potenza. Kiyomori muore l'anno stesso di questa sconfitta, il 1181, ma un altro Minamoto, Yoshinaka, si ribella e sconfigge l'esercito di Taira, spaventandolo per mezzo di buoi alle corne le quali aveva fatto legare delle torce. Si dirige quindi verso Kyoto, dove i Taira fuggono con Antoku fanciullo e le insegne imperiali. Solo rimane l'imperatore Shirakawa II, il quale riceve a corte il vincitore e tratta con lui da successione al trono. Poiché non si accordano, Shirakawa II invoca l'aiuto di Yoritomo e mette un Minamoto contro un Minamoto. Yoritomo spedisce il fratello Yoshitsune con un forte esercito che batte definitivamente Yoshinaka. Yoshitsune entra vittorioso in Kyoto e poi assiste, con compiacimento dell'ex imperatore Shirakawa II, alla cerimonia della nomina di Toba II a imperatore. Per la prima e l'ultima volta alla cerimonia si compie senza le insegne imperiali e l'approvazione della corte dell'imperatore regnante. Yoritomo ordina al fratello di proseguire la lotta contro i Taira, i quali, in ultimo, fuggiti a Shinomo Secchi e attaccati sul mare presso Danonoura, annegano quasi tutti con l'imperatore Antoku di appena otto anni e con i segni imperiali. Fra Yoritomo e Yoshitsune sorse una mortale discordia. Shirakawa II, senza consultare prima Yoritomo, nominò Yoshitsune capo della polizia di Kyoto ed esso la genosia del primo fratello. In vano Yoshitsune tentò di placarlo e per sottrarsi alle sue persecuzioni andò a rifugiarsi con la moglie e figli presso Fujiwara, suo patrono, ma il figlio di Costui, morto il padre, abbandona i profughi che, spinti dalla disperazione, si squarciarono i venti con la spada.